Simone! Chi è? È una sessanta, tocca a te, eh! Federica, tagli una mano a Simone! No, che tocca a lui! Eccoci qua, che qui nel cuore è la sua parte a queste nuove… È che la tua mappa e la tua connessione! È una failed… È una rcivola. È una rcivola. Grazie a tutti Grazie a tutti